Ah, com'è bello svegliarsi la mattina, allungare la mano e sentire di avere accanto a te la cosa più preziosa che hai, lo smartphone! Amore che bello, hai preparato la parazione, grande! Ah! Prima si fa la foto e poi si mangia! Bene, ora possiamo mangiare! No, 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 sono scaricato! Cazzo! Non prende! Acqua! Sodium lauret sulfate! O canidro popri! Sodium lauret sulfate! Sodium cloride! Sodium benzotate! Ale, ti ricordo che abbiamo un impegno, quindi spiccia di non ti bloccare con i video come al solito! Va bene! Ale, ma veramente si è bloccato da un'ora! Ma poi che cosa ti stai guardando? Ma guarda! Ma tutti i video che tenete li guardi più! Ehi, perca la f***a è tantissimo! Oh, ma ci dobbiamo raccontare un sacco di cose! Oh, ma ci dobbiamo raccontare un sacco di cose! Ehi, a un bordello che non ci vediamo, porca di s***a! 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 Dai, ragà, con questi cellulari! Ci facciamo un risico come facevamo ai vecchi tempi? S***a! 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 Eeeh? S***a! 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 Ma via, ragazzi, ma dai! Ma una giornata che scegliamo per stare insieme dopo tanto tempo che non ci vediamo! E voi sempre con queste facce vestiti sui cellulari! Sempre questi telefoni che usate continuamente! Non si comunica più! Non ci si guarda più! sembriamo degli automi e che diavolo dai ma non è possibile così che bella compagnia che siete belli amici veramente per passare del tempo guarda ma vi dovete vergognare scusate un attimo dai almeno abbiamo passato una giornata diversa noi abbiamo parlato un sacco ma voglia mi sei scaricato tutta la batteria del cellulare com'è bello svegliarsi la mattina allungare la mano e sentire di avere accanto a te la cosa più preziosa che hai grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti